Me lo avete chiesto in molti, oggi parliamo di Imagierre in versione abbonamento. Ciao a tutti e benvenuti nel canale, come vi ho accennato oggi parliamo di Imagierre, però la versione a pagamento non quella gratuita, che apre diverse funzioni e anche molto interessanti. Ho acquistato sei mesi di abbonamento, ma ci sono diverse versioni che poi vi farò vedere. Nella versione a pagamento ci sono veramente diverse migliorie che rendono più facile la realizzazione di immagini con il nostro laser. Con questo non voglio dire che bisogna accantonare i programmi della tipologia di Photoshop, però ci avviciniamo molto. Per la realizzazione di certe immagini con Photoshop bisogna saperlo usare veramente, essere dei pro per capirci. Io ho visto diverse immagini, sia realizzate con Photoshop che con Imagierre. Con Imagierre è tanto di cappello perché le differenze sono talmente minime che non si vedono. Ovviamente ripeto, chi sa usare Photoshop può aumentare la qualità, ma non parliamo più di laser diodo, passiamo ai laser a fibra. Con tecnologie a 4K o addirittura a 8K, per i nostri laser a diodo Imagierre va più che bene. Con questa premessa voglio anche ringraziare chi si è abbonato al canale perché aiuta a contribuire alla creazione di anche questi video. Chi è abbonato al canale riceve in anteprima i video che escono settimanalmente e in più ha anche accesso anticipato alle mie risposte. E più avanti, quando il numero salirà, creerò dei video dedicati all'interno degli abbonati. E vi ricordo anche di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campagna in linea, di lasciare un like se vi piacciono questi video. Bene, passiamo al PC. Vi faccio vedere prima di tutto come ci si abbonano a Imagierre e poi vi faccio vedere tutte le funzioni a pagamento che non troverete sulla versione gratuita. Bene, eccoci su Imagierre. Sono andato sulla pagina pricing, questa qui, per vedere i costi per acquistare un abbonamento. Come vedete, si suddividono in online e offline perché potete anche installare Imagierre fisicamente sul PC. Io ho scelto la versione online perché mi trovo bene con quella. Non cambia niente tra la versione online e offline, solo che nella versione offline magari lavorate con il vostro PC direttamente. Quindi tutte le elaborazioni verranno fatte dal vostro PC. Invece nella versione online la farete tramite il sito. Allora, parliamo della versione online. Come vedete c'è la versione gratuita, che è questa qui, che non pagate niente. Oppure potete scegliere se un mese, sei mesi o un anno. Io ho scelto la via di mezzo e l'ho pagata 26 dollari, circa 25 euro o una cosa del genere. Ora non mi ricordo perfettamente perché l'ho acquistata quasi due mesi fa. E avete sei mesi di abbonamento, quindi state tranquilli per sei mesi. Non è che sia un costo molto alto, perché all'incirca vi costa sui 4 euro, 4 euro e 30 insomma al mese, non molto. Poi se volete potete acquistare anche l'abbonamento di un anno che vi costa ulteriormente di meno. E vi costa 43 dollari che sono circa poco più di 40 euro. Ecco 41, 42 euro. E questa è la versione online. Vi ripeto, io ho acquistato quella semestrale giusto anche per provare i MagiR e capire le varie funzioni. In più sotto c'è la versione offline, che costa qualcosa di più. Perché è adibita ad un programma che dovete scaricare di MagiR. Però vi ripeto, alla fine non cambia niente. È solo un po' più veloce perché non dovete aspettare i caricamenti della versione online. Però alla fine non cambia nulla. Comunque, mensilmente costa 11 dollari, semestralmente costa 32 dollari e annuale costa 54 dollari. Se vedete la differenza tra i 6 mesi della versione offline e della versione online è di poco più di 6 euro. Sì, 6 dollari scusate. Quindi valutate un po' voi. Io vi consiglio questa qui. Anche in base, magari se non avete un PC performante, passate alla versione online e non avete problemi. Bene, eccoci qui su MagiR e sulla versione a pagamento. Andiamo a vedere le varie funzioni. Partiamo dalla classica MagiR dove andremo a creare la nostra foto per il nostro laser. Quindi entriamo qui. Facciamo Upload. Scegliamo se in scala di grigi ha colori. Nel mio caso ho scelto una foto in scala di grigi. Quindi vado ad aprirla. Benissimo. Una volta caricata, andiamo su Resize. Selezioniamo 200 mm che è la misura della mia piastrella. Mettiamo 318 dpi e gli diamo OK. E fin qua è tutto uguale alla versione gratuita. Cosa cambia? Si è aperto questo menu ma ce ne sono molte più funzioni. Abbiamo il Color Correction, l'Auto Adjustment, il The Noise. Ce ne sono diverse ma soprattutto queste due qua in particolare sono molto interessanti. Io le utilizzo spesso per realizzare le mie immagini. Ora vi faccio vedere. Se noi gli diamo Auto Adjustment, gli diamo Run. Vedete che ha migliorato notevolmente l'immagine, l'ha regolata. Anche il Color Correction praticamente migliora nel mio caso le scale di grigio. Quindi andiamo a dargli un Run. Qua ci vuole un po' di più pazienza perché ci vuole un po' più di tempo. Come avete visto ha migliorato le mie scale di grigio. Poi sta a gusti ovviamente. Ora facciamo Reset su tutti e due. Ok, Resetiamo anche questa. Perché voglio farvi vedere fase per fase. Benissimo. Torniamo alla parte iniziale di cui abbiamo selezionato i nostri DP dell'immagine. E siamo pronti per prepararla per il nostro laser. Quindi andiamo su Material. Come vedete si sono aperti diversi materiali. Ci sono diverse funzioni. Un po' tipo come Light Barn. Quando andiamo ad applicare i filtri, i stacchi, i Jarvis, eccetera. Qua ce ne sono diverse. E sono divise tutte, anche queste, per tipologia di materiale. Dall'acrilico fino al legno, all'alluminio, all'onodizzato, eccetera. Non sto qui a farvi vedere pezzo per pezzo cosa sono perché presumo che già lo sappiate perché utilizzate il Magierre. In questo caso potete fare voi una scelta. Poi vi faccio vedere le varie tipologie che io ho utilizzato. Ho fatto un pannello apposito dove ci sono tutte le varie tipologie di materiali che ho utilizzato con il legno. Nel mio caso io voglio utilizzare il legno e per la precisione l'MDF. Quindi scegliamo Hold, Wood e gli diamo OK. Lui adesso la renderizza in maniera da poterla incidere con il laser nel materiale legno. Cosa possiamo fare oltre a questo? Andiamo su Preview with Material. Vediamo che si possono vedere i vari tipi di materiale. Andiamo nel mio caso, o se è già aperto, va bene. Andiamo nel mio caso in MDF che è il materiale che io ho in casa. Quindi lo seleziono e così vado a vedere una preview di come vengono fuori. In MDF praticamente l'immagine verrebbe fuori così. Io l'ho già incisa, poi vi faccio vedere la qualità di come è venuta fuori. Ovviamente poi dovete lavorare sia con la potenza e la velocità in maniera da renderla più vicina possibile a queste immagini. Però la qualità finale si avvicina molto a questa, diciamo. Una volta vista possiamo passare al nostro classico download. Cosa succede? Possiamo selezionare i classici tre tipologie di download, se in bitman, png o in jpeg. In più abbiamo queste due funzioni. Il dpi test. Il dpi test è molto importante, ve l'ho fatto vedere su un video. Cosa serve? Per capire a quanti dpi voi potete incidere la vostra immagine. Se noi andiamo a selezionare, diciamogli che voglio fare il dpi test sull'occhio. Quindi seleziono l'occhio. Mi sposto verso il basso. Ok. Seleziono. Ho sbagliato, scusate. Ritorno, seleziono l'occhio. Ok. Mi sposto. Vado a selezionare le varie tipologie di dpi. Io in questo caso mi fermo a 3.18. Quindi seleziono 159, 169, 181. Vado avanti fino ad arrivare a 3.18. E gli do il download. Quindi ora lui mi va a scaricare un file zippato di tutti gli occhi nei vari dpi. Quindi lo salviamo. Sempre per il materiale legno, ovviamente. Lo andiamo ad aprire. Ok. Lo estraiamo. Va bene. Salvamelo lì. Andiamo in lightburn. Scusate che stavo facendo un progetto. Andiamo ad aprire i file che lui mi ha creato. Che sono tutti questi. Vediamo se riesco a selezionarli tutti. No. Devo aprirne uno alla volta e poi importarli. E come vedete. Importandoli uno per uno. È una cosa che vi ho già fatto vedere. Ma va bene. Ve la ripeto. Giusto per... Giusto per... Ora sto veloce. Non sto a mettere i tanti in ordine. Ok. qua ci sono tutti gli occhi nelle varie versioni dpi. Se voi andate a vedere, facciamo uno zoom. Vedete che qua c'è scritto a quanti dpi è formato quest'occhio. Fino ad arrivare, ovviamente, ai 318 dpi. E poi, una volta che voi avete fatto la prova di incisione, dovete valutare qual è il dpi migliore. In base alla tipologia del materiale che state utilizzando e anche al laser, ovviamente. Benissimo. Torniamo su Immagir. Chiudiamo questa qui. Ora vi faccio vedere un'altra funzione molto interessante, sempre in download. Algorithmic Test. Quindi clicchiamo. Selezioniamo ancora l'occhio, va bene così. Ci spostiamo verso il basso. Qui non toccate niente. Se volete mettere le dimensioni, ma io le lascio così, intanto non mi interessa. Mi interessa capire come viene fuori l'immagine. Facciamo download. Lo saliamo. Lo apriamo. Lo estraiamo, anche questo. Ok. Andiamo. Facciamo una nuova cartella. Facciamo un nuovo. Questo non lo salviamo perché non ci interessa. Andiamo di nuovo qui. Gatto. Ok. Algoritmo Test. Entriamo qua dentro. Asterisco, punto asterisco, perché sono file png. Selezioniamo il primo, gli diamo ok. Poi andiamo a importare tutti gli altri. Quindi tac. Togliamo questo, che l'abbiamo già selezionato. E li andiamo a mettere sempre sul nostro pannello di lavoro. Ok. Ed eccolo qua. Come vedete, cosa ha fatto con questo algoritmo? Lui è andato a prendere in Magierre, vi faccio vedere, tutti i tipi di materiali sempre legno. Quindi con le diverse funzioni, la funzione è Norton, la funzione è CO2, l'altra funzione è CO2, diviso 2 che non so purtroppo cos'è perché non lascia il CO2, la versione è nero, sketch, eccetera. Se noi andiamo a vedere, come vedete, qua c'è scritto Skeldon Wood, Norton Wood, Nero Wood, Marching Wood, Casia Wood, eccetera. Voi potete fare un test di incisione anche su questo e vedere quella che vi risulta migliore, in base sempre alla tipologia del vostro laser e alla tipologia del materiale. Ma più che altro, in questo caso, si parla di tipologia di materiale. Questa è un'ottima funzione, soprattutto l'altra per i test di P, che una volta nella versione gratuita c'era, poi l'hanno tolta e l'hanno messa solo in quella a pagamento. Però il consiglio mio è utilizzarle tutte e due se dovete fare un'immagine ad hoc perfetta. Bene, questo è quello che serve per bilanciare le nostre foto per poi inciderle. Ora passiamo alle altre funzioni che nella versione gratuita non ci sono. Non sto qui a fare vedere tutte quelle della versione gratuita perché non avrebbe senso. Vi faccio vedere solo quelle a pagamento. Passiamo alla seconda funzione, Cantur. Quindi andiamo qui. Praticamente è la stessa funzione traccia immagine di Lightbar, giusto per capirci. Facciamo un upload. Vi faccio vedere. Questa la trovate solo per la versione a pagamento. Quindi andiamo a prendere questa, che magari è più fattibile per renderla SVG. Come vedete, lui è andato a tracciare l'immagine. Diciamo che l'Imagir vi aiuta un po' di più, però lo potete fare tranquillamente anche con Lightbar. Una volta scaricato lo salvate come SVG e avete l'immagine tracciata. Questa è un'altra funzione che trovate a pagamento. La prossima funzione sempre a pagamento è Masking. Anche qui, questa, diciamo, è un po' più interessante. Vi faccio vedere. Carichiamo sempre un'immagine. Prendiamo sempre il gatto. Benissimo. Ora, cosa possiamo fare con questa funzione? Possiamo creargli un contorno. Se noi andiamo qui, come vedete, ci sono diversi contorni che potete mettere. Magari ci mettiamo questo cerchio qui, lo importiamo, aspettiamo che carichi. Ora non so come viene, perché è una prova fatta al volo. Ok. E vedete che il gatto, qua potete correggerlo, potete spostarvi ovviamente con l'asse X e l'asse Y. Potete scegliere, potete anche ingigantirlo. Potete fare un po' come volete. Diciamo che è una funzione abbastanza interessante. Ovviamente non potete metterci, non so, una mitragliatrice, ma magari dei cerchi, un cuoricino, qualcosa, un quadrato. Può creare un contorno all'immagine che a volte anche a me serviva per alcune immagini. Così può anche magari togliere quello che magari non vi interessa, tipo non volete, cos'è questa qui? Penso che sia un altoparlante, ma lo volete, lo togliete un attimo, vi spostate così. Ora sto facendo una cosa veloce, è giusto per farvi vedere. E così mettete in primo piano la faccia del gatto. Qua è il solito discorso, scaricate l'immagine e poi utilizzate la funzione Immagir per creare l'incisione con il laser, oppure la tenete così, poi sta a voi la scelta. Ho un'altra funzione che a me piace molto, Cartonizer. Ovviamente lo dice la parola stessa, vi trasforma un'immagine in versione cartonesca. Quindi facciamo Upload, scegliamo Mandalorian, lo apriamo. Lo ha già creato, come vedete questa è l'immagine originale e questa è l'immagine creata da Immagir. Come vedete l'ha formata in una versione cartonesca che è veramente fatta bene. Infatti questa funzione, secondo il mio punto di vista, anche questa vale l'acquisto di Immagir. Qua ovviamente fate il solito download, scegliete il formato se PNG, Bitmap o JPEG e poi lo spostate su Lightbound con la solita procedura. Un'altra funzione a pagamento è Enhance. Spero di averlo detto giusto, non sono molto bravo in inglese. Cosa fa questa funzione? Questa funzione migliora la qualità della vostra immagine. Andiamo a fare un Upload, prendiamo i lupi, li apriamo. Ok, questa è l'immagine originale. Qua potete scegliere il metodo se raddoppiare la qualità, triplicarla, quadruplicarla oppure X8, che ve lo sconsiglio anche perché ci vuole una vita. Piuttosto scegliete l'immagine lenta, quadruplicata o triplicata. Ci vuole un po' di tempo perché lui triplicherà e migliorirà l'immagine, quindi per tre o per quattro volte. Quindi io adesso la lancio. Ora velocizzo un attimo il video. Benissimo, il file è pronto per essere scaricato. Quindi andiamo a scaricarlo, lo apriamo e come vedete se andiamo a confrontarlo si vede proprio che la qualità è migliore. Io a video riesco a vederlo, spero che anche voi su YouTube riuscite a vederlo, però la qualità anche del pelo è migliore. Bene, passiamo alla prossima funzione, color correction, che lo dice la parola stessa, correzione dei colori. Ora andiamo a prendere sempre un'immagine di scala di grigi, non mi interessa star lì a vedere l'immagine a colori perché con il nostro laser incideremo in scala di grigi. Quindi prendiamo i lupi, sempre i soliti, ok, benissimo. Questa funzione, anche questa funzione è molto ma molto interessante. Fa una correzione dei colori, possiamo selezionarlo così oppure applicare grayscale image. Ovviamente se avete l'immagine a colori applicate quella, vi ottimizza l'immagine. Ora si assomiglia parecchio perché è già in scala di grigi, era già predisposta per essere incisa questa. Però anche qui potete modificarla. Qua shadow, amount, quindi qua ci sono tutte le spiegazioni. Se voi andate sul punto di domanda, vi dice cosa servono. Ora non sto qui a modificarli tutti, ma magari ve le apro. Comunque cosa dicono queste qua? Praticamente la prima dice che controlla la quantità di correzione da portare nelle aree d'ombra. La seconda controlla la gamma di toni delle ombre che vengono modificate. La terza controlla la dimensione del quadrato attorno a ciascun pixel, giusto per farvi capire. Sono tutti effetti che sono da lavorare e provare. Questa qui ad esempio controlla la quantità di correzione da portare nelle aree evidenziate. Questa qui controlla la gamma di toni nelle altre luci che vengono modificate. Sto cercando di tradurre direttamente, giusto per capire cosa dice. Questa qui controlla la dimensione attorno a ciascun pixel. E quest'ultima controlla la quantità di colori all'interno di un'immagine. Ovviamente dovete fare delle prove e vedere qual è la regolazione che vi si addice di più. Comunque questa è una bella funzione. Soprattutto se avete una foto colori la ve la trasforma già direttamente in scala di grigi. Così poi potete passare alla funzione principale di Magierre per trasformarla per inciderla con il laser. Un'altra funzione e ultima interessante è Sharpen. Questa qui è molto ma molto bella. Vi faccio vedere. Prendiamo sempre il nostro lupo, anzi i nostri lupi. Allora, ci sono due metodi. Come vedete, questa è l'immagine originale e questa è l'immagine fatta da Magierre. Come vedete, il pelo è molto più folto. Noi possiamo anche aumentarlo qui, possiamo fare quello che vogliamo. Vedete, aumenta sempre di più. Oppure c'è il secondo metodo, che sono già dei metodi, diciamo, impostati. Come vedete qui, non potete modificare niente. E vedete che il pelo è un altro tipo di pelo con fronte all'immagine originale. Questa è una funzione che io reputo molto interessante. Soprattutto se dovete fare immagini di gatti, di animali vari. Questo vi aiuta a ottimizzare di più sull'incisione laser e evidenziare di più il pelo dell'animale. Bene, come dicevo, ho fatto diversi test. Questi sono i vari algoritmi da utilizzare con tutte le tipologie di materiali. Ovviamente ho utilizzato solo legno. Quindi ho utilizzato l'old wood, per capirci, l'algoritmo. Il sketch wood, il marching wood. Il nero è incompleto perché l'ho fermato io. Il norton, il skeldon, il banning wood, le scale di grigio e il casia wood. Queste sono tutte versioni per il materiale di tipologia legno. Allora, come prima immagine che stavo settando un attimo, mi è venuta fuori questa. Spero che si veda. È un po' chiara. Ovviamente ci sono dei test da fare. Questo è stato il mio primo test. Ho selezionato la old wood e mi è venuto fuori questa immagine qua. Successivamente ho fatto un altro test. Lasciate stare qui che si era sporcato il laser. e ho aumentato un po' la potenza. Però ancora l'immagine è chiara. Alla fine sono arrivato a questa immagine qui. Come vedete, questa immagine è perfetta. Vi ricordo che il materiale è MDF. Spero che si veda. Si vede proprio la rifinitura dei peli del gatto. Veramente è fatta veramente bene. Come potenza per il laser da 10 watt per questa immagine io ho utilizzato una velocità di 6000 mm al minuto. E una potenza del 60%. Utilizzando un laser da 10 watt. Poi non mi sono fermato. Ho fatto altre prove. Ho fatto delle prove sulla ceramica. Sulle piastrelle in ceramica. Allora, come prima prova, vi faccio vedere. Ho fatto questa. Ovviamente ho utilizzato la tecnologia old. E si chiama, leggo... Vado a vedere un attimo. Si chiama White Tile Painted Black. La potete trovare anche sulla Norton che è versione gratuita. Poi fate voi le prove. Io ritenevo che la versione old era meglio. Ed è questa. Non ero ancora soddisfatto. Quindi ho fatto un'altra versione. Ho corretto un po' la potenza e la velocità. E ho realizzato questa. Che è decisamente meglio. Spero che si veda. Come tempistiche di questa ho utilizzato 6.000 mm al minuto e una velocità del 50%. Ora la mia prossima prova sarà da utilizzare altre tipologie di algoritmi. Ma farò un video a parte di questo perché voglio trovare l'algoritmo perfetto per le piastrelle in ceramica. Quindi vi spiego anche come io realizzo queste piastrelle in ceramica. Beh, come avete visto il Magier è un software veramente potente. Io sono soddisfatto dell'abbonamento che ho fatto. Se volete potete abbonarvi. Vi lascio il link qui sotto. Non sono un ref link di nessun tipo. Vi abbonate. È un consiglio da parte mia. Se realizzate tante immagini. Ovviamente vi ho fatto vedere solo una piccola parte di quello che può fare i Magier. Vi ho fatto vedere sia sul legno che sulle piastrelle. Ma potete farlo su qualsiasi tipologia di materiale. Se avete una CO2 anche su plexiglass. Oppure sull'alluminio anodizzato. Ce ne sono svariate. Ora tessuti, pelle. Ora c'è una lista qui da creare. Ardesia soprattutto. Magari se riusciamo a arrivare a mille like di questo video. Posso fare un video a parte. Con le varie tipologie di materiali. Diciamo posso crearle quasi tutte. Ovviamente i plexiglass non posso tagliarlo. Perché ho un laser diodo. Da parte mia io ve lo consiglio di acquistarlo. Provatelo. Se non volete spendere 26-25 euro. Non mi ricordo cosa ho speso. Prendete la versione di un mese. Fate la prova e valutate. Io ve lo consiglio. Ovviamente queste immagini sono state create tutte con l'IA. Ho fatto un video di come realizzarle. Ovviamente sono state già preparate tutte in scale grigio. Ma potete fare quello che volete con l'IA. Avete visto. Soprattutto anche la tecnologia cartonesca che c'è su Imagi R. È molto interessante. Infatti ho già in mente di realizzare qualche immagine in versione cartonesca. Ripeto. Secondo il mio punto di vista vale la pena acquistare questo programma. Poi fate un po' voi le valutazioni. Ovviamente io approfondito molto la creazione di immagini tramite gli algoritmi. Però ci sono molte funzioni che in questa versione a pagamento possono essere molto interessanti. Come vi dicevo la versione cartonesca che non sottovalutatela ma è veramente fatta bene. Il color correction. Poi il sharpen che aumenta di più la luminosità del pelo degli animali. Se avete delle immagini con degli animali come vi ho fatto vedere. E più altre tante funzioni. C'è la funzione diciamo traccia immagine come la vedete su Lightburn. Che già quella di Lightburn funziona da Dio. Questa qui praticamente ve l'ha già imposta correttamente. Poi potete lavorarcela. Valutate un po' voi. La avete qui nella versione a pagamento. Qui con click fate tutto con Lightburn. Riuscite ad arrivare ad ottimi livelli. Anzi buonissimi livelli perché Lightburn è un ottimo programma. Però qui è già tutto pronto. Bene. Se vi interessa che approfondisca ulteriori funzioni su MagiR. Oltre alla creazione di immagini tramite l'algoritmo. Se volete che approfondisca il color correction. Il contour. Il scontornamento dell'immagine. O altre funzioni di MagiR che vi ho fatto vedere. Scrivetemelo pure qui sotto nei commenti. Posso creare un video dedicato solo per quello. Io vi ho spiegato bene o male come realizzarle. Poi fatemi sapere voi se volete che io approfondisca ulteriormente. Bene adesso non ci resta che arrivare a 1000 like su questo video. Io farò un video dedicato come vi ho detto. Di molti materiali quasi tutti. Quelli che ci propone i MagiR. Quelli che sono nella possibilità di usare il laser di Ogo. Vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!